Una Porsche con il logo Noi Amiamo Bergamo, una Porsche che correrà nel circuito Carrera Cup Italia grazie alla sensibilità del gruppo Bonaldi Motorsport. Ci racconta tutto Renato Petretti. La bandiera con il logo Noi Amiamo Bergamo, distribuita dall'Eco di Bergamo in piena pandemia Covid, che campeggia dalle finestre delle case di molti bergamaschi, farà bella mostra di sé su cofano e fiancate della Porsche, del team Bonaldi Motorsport, che parteciperà al nuovo campionato Carrera Cup Italia. Bonaldi sicuramente è legatissimo a Bergamo e a tutto il territorio bergamasco. Ancora di più il legame con questo territorio, la livrea di questa macchina che rappresenta il momento storico assoluto di Bergamo. Quindi è nata quest'idea e l'abbiamo sposata io come responsabile del gruppo Bonaldi e ho sicuramente accolto a mano aperte quest'idea. L'auto, svelata quest'oggi presso la sede del gruppo Bonaldi di Azzano San Paolo, è davvero un concentrato di potenza e alta tecnologia, che saprà farsi valere sui circuiti automobilistici italiani, anche grazie al contributo di Marzio Moretti, promettente giovane pilota, al debutto nel circuito. Siamo arrivati finalmente alla partenza del campionato 2020, con una lunga attesa, ci presentiamo con un validissimo giovane pilota, su cui contiamo molto, speriamo che abbia una crescita veloce e soddisfacente durante la stagione per puntare a dei risultati ambiziosi. Ci presentiamo con una livrea inedita a supporto della città di Bergamo, riprendendo un po' l'iniziativa dell'Eco di Bergamo, siamo ovviamente orgogliosi e speriamo di onorarla al massimo. La nuova Porsche grifata Noi Amiamo Bergamo è pronta ad affrontare il circuito Carrera Capitalia, con il più grosso in bocca al lupo da parte di tutti i bergamaschi. L'emozione sarà tanta perché sono conscio del periodo che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, e di portare con me tale logo che ricorda la strage che c'è stata nella città di Bergamo, è un peso ma è anche un onore.